Sarà presentata ufficialmente domani mattina alle ore 10 nella sala conferenze del Consiglio regionale a Campobasso la carta dell'acqua molisana che certificherà la qualità della sorgente di rio freddo le cui condotte servono le province di Campobasso, Benevento, Avellino e Foggia per un totale di 150.000 abitanti. Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale del Molise Vincenzo Cotugno cui è stata affidata l'introduzione ai lavori con la presentazione del progetto. La promozione della salubrità dell'acqua molisana arriva dopo mesi di prelievi da parte dell'azienda Molise Acque, prelievi che hanno dato esito positivo dal punto di vista chimico e microbiologico. Nella stessa occasione sarà presentato in anteprima anche il bollino dell'acqua che andrà a certificare, esponendolo sulle confezioni, i prodotti gastronomici molisani che utilizzano l'acqua della sorgente di rio freddo.